ciao massimo ciao claudio senti una domanda sulle scaffalature se io fossi un tecnico della sicurezza nell'spp interno di una qualsiasi fabbrica e avessi tutti hanno scaffalature in fabbrica il 90 per cento delle aziende ha scaffalature cosa guardo cioè vedo una scaffalatura e cosa cosa guardo per sapere se sono a posto che informazioni devo cercare beh io inizierei dalla documentazione cioè allora prima di tutto dovrebbe avere la documentazione che la struttura è marchiata CE dunque che è stata progettata seguendo delle normative ben precise ok ok di avere il manuale d'uso e manutenzione per poterla sottoporre a controllo e dopo di che dovrebbe effettuare dei controlli visivi sulla 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 stessa scaffalatura e non dovrebbe esserci anche un responsabile della scaffalatura sì ci dovrebbe essere una figura nominata all'interno dell'azienda il cosiddetto PRSS è un acronimo terribile vuol dire persona responsabile del servizio di sicurezza delle della struttura di immagazzinaggio praticamente mai visto ok e cos'altro dovrebbe guardare se è imbarcato o no esatto terra no ci sono delle procedure ben precise che sono indicate sul manuale d'uso se non c'è il manuale d'uso si fa riferimento a una normativa europea sì dove ti visivamente devi controllare lo stato dei montanti lo stato dei correnti e lo stato dei diagonali dei traversini ti sei dimenticato che ci deve essere questa questo lo do a priori perché sennò se io non ho questo di queste così completa ne ho viste poche dai sì seria anche tu hai ragione il mondo reale è diverso hai ragione a fare il mangia carte dai però purtroppo purtroppo se noi non abbiamo questo allora la nostra struttura non è stata caricata perché noi non sappiamo che peso bisogna mettere sulla struttura nel mondo reale ti sveglia un segreto c'è un pc non c'è solo una portata e la carica ne basta presente non è sufficiente quindi riavvolgendo nell spp non trava questo dice un muble muble qualcosa non va già un problema guarda se c'è manuale di usi e manutenzione magari non c'è guarda se c'è il cie non guardate c'è un responsabile prs responsabile della scaffalatura e magari non c'è e poi avverte il titolare e suggerisce di contattare un tecnico assolutamente sì è un consiglio